Amici di Football is my life, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi video sul fantacalcio, come è andata il fantacalcio, come è andata la giornata del fantacalcio della mitica Via Tasso Fudor Club. Finalmente, finalmente, finalmente ce l'abbiamo fatta a vincere contro il Belfiga. Via Tasso Fudor Club, Belfiga 3 a 2. Fatta questa piccola premessa, iniziamo un po' a vedere il punteggio delle due squadre. Partiamo dal mio avversario, dal Belfiga, scusate, che ha totalizzato 74 punti e mezzo. Di questi 74 punti e mezzo, Audero 7,5, più 1 per il Flinshit, Acerbi 5, Bruno Alves 6, Bonucci 6, meno mezzo punto per il cartellino giallo, Ramani 5,5, Depol 8, più 1 per l'assist, Bernardeschi 5, Douglas Costa 7, Cajéhon 9,5 per il gol, Muriel 10, anche lui andato a segno, Gervinio 5. Passando poi invece all'avia Tasso Fudor Club, abbiamo totalizzato 80 punti, ho totalizzato 80 punti. Di questi 80, Sportiello 7, più 1 per il Flinshit, seconda partita di fila in cui riusciamo a tenere la porta inviolata, seconda partita di fila in cui riusciamo a tenere la porta inviolata, seconda partita di fila in cui riusciamo a tenere la porta inviolata, seconda partita di fila in cui riusciamo a tenere la porta inviolata, seconda partita di fila in cui riusciamo a tenere la porta inviolata. Kumbulla 5,5, Gosens e Castagne entrambi 6, Lazzari 5, Demme 6, meno mezzo punto per il cartellino giallo Kuczka 9,5, gol ma anche Amonito, Ibrahimovic 10 per il gol, Dzeko 6,5, Belotti 9 per il gol Il tutto per un totale di 80 punti Va bene ragazzi, questo era un po' il riassunto della mia ultima giornata del fantacalcio Fatemi sapere cosa ne pensate, ditemi se ho giocato al fantacalcio, qual è la vostra squadra E come state andando? Io come al solito mi invito a iscrivervi al canale YouTube A seguirmi su Facebook, a seguirmi su Instagram, a lasciare un commento, a lasciare un mi piace A spammare questo video in ogni singolo punto del planisfero Detto questo vi saluto e ci vediamo alla prossima Ciao ragazzi!